Non compromettere tutto per me. Compromettere che cosa? Una vita da cupido al motel amor o una carriera da shaman al capris? E' dal primo momento che ci siamo incontrati che hai fatto di tutto per smontare il mio mondo. E ci sei riuscita. Voglio che tu sia sicuro. No, non sono sicuro. Quindi che facciamo? Torniamo indietro, io vado alla reception e tu, non lo so, chiedi a Miranda se hai bisogno di una mano al bar. No, Miranda mi fa paura. Pure a me? Non si torna indietro.